Lo scontro tra madre e figlio. Straccione! Stupid attrice senza scopo! Il bisogno di riconoscimento. Volevo rivoluzionare il mondo e invece non riesco nemmeno a fare l'amore. La fusione di arte e vita. Per me il teatro d'oggi è pura noia, è vuoto. L'occhio di retroscena sul nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati. L'atmosfera del lago cambia a seconda del personaggio che lo cita. E poi ancora conflitti ed emozioni con Flavio Insinna e Giulia Fiume in Gente di facili costumi. Sarebbe conflittuale perdersi di vista.